Non tutti diventeranno classe dirigente, dobbiamo far passare i migliori, noi raccomandati o chi urla di più, dobbiamo far passare i migliori. A margine dell'incontro con la presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ieri in visita a Venezia, il sindaco Brugnaro è tornato ad affrontare il tema dei giovani e del futuro. E dopo le polemiche dei giorni scorsi, sui 700 euro per una casa di uno studente con conseguenti proteste, ha spiegato ulteriormente la sua visione. Io credo davvero nella classe dirigente, penso che i giovani quando io parlo di next generation parlo di quelli che non sono neanche ancora nati. Cioè questi progetti che abbiamo in mente riguarderanno i prossimi 20 anni non possono riguardare il proprio egoismo personale di oggi. Dobbiamo immaginare come sarà la nostra classe dirigente, come sarà capace il giovane italiano in questo caso ad affrontare le grandi migrazioni, come riuscirà ad affrontare le altre culture. Dovrà avere carattere, molta forza, molto entusiasmo, probabilmente dietro a questo. E ci vogliono le istituzioni che invece che far chiacchiere facciano fatti e noi i fatti li facciamo. Abbiamo bisogno di fare selezione, noi dobbiamo ricominciare a fare selezione della meritocrazia, non c'è nulla da fare.